Non prende il cane Mettimene d'altro voi Mi scena raccappricciante E il chakra Apri il chakra Eh, mo' va meglio Sì, ma almeno ripetti, no, porca miseria Guarda che gli ha lasciato il testo Hai commenti a caldo? Penso Lo consiglieresti agli amici? Dove è andato Fabio? A fumare Perché doveva smettere in questa vacanza Nel bugigatto dei fumatori Proprietà Proprietà di e lui è l'unico che si ha detto è un po' di carnetto e ha detto guardate la persona e ha detto e ha detto ma se si sa voglia do una cosa quando è 5 io voglio raccogliere 5 e gli va l'avevo detto e comunque gli va che è prego Grazie a tutti.